Andrea Poli Andrea Poli diceva, ah beh c'è anche Aldo Bignami, allora per evitare questa deriva verso il basso ho deciso di darci un taglio, magari l'anno prossimo si vedrà, metti che Bignami vada in pensione o insomma venga tagliato per i tagli ai bilanci degli enti pubblici che ci sono, hai visto mai che abbiamo questa fortuna? Insomma ne parliamo per il 2011. Va bene, vedremo come andrà a finire. Andrea è qui anche perché lo riguarda il servizio che stiamo per vedere, di che cosa si tratta? Sì, nel 2011 l'ufficio UMA presso cui lavoro ha deciso di attivare un nuovo servizio per favorire l'utenza e velocizzare il servizio. Ce ne parla Marco Calmistro. Un elemento di novità che vorremmo che prendesse piede dalla prossima annata è relativamente all'accesso ai nostri uffici per quel che riguarda l'utenza non legata direttamente alle organizzazioni professionali agricole, ai centri di assistenza agricoli per gli utenti delle macchine agricole. Per la procedura di accesso al carburante oramai la procedura è consolidata dal punto di vista informatico, il 98% delle operazioni vengono gestite con questo strumento che consente comunque in tempi rapidissimi nell'arco della giornata tra noi e il richiedente che è quindi l'organizzazione professionale agricola, il centro di assistenza agricola di poter evadere le domande. Quindi noi invitiamo gli utenti che sono non legati a questi organismi e che vengono presso i nostri uffici di fissare un appuntamento proprio per poter soddisfare le loro richieste e le loro aspettative in tempi anche rapidi e con il giusto tempo di attenzione da dedicare alle loro problematiche. Potrebbero anche esserci utenti che sono disponibili in fasce in cui normalmente non siamo aperti al pubblico e quindi andremo incontro anche a una esigenza che può essere ritenuta legittima di questo utente, che potrebbe essere una fascia pomeridiana oppure in una giornata in cui normalmente siamo chiusi al pubblico che è il mercoledì proprio per consentire ai nostri operatori di lavorare con la giusta attenzione alle pratiche amministrative. L'appuntamento può essere preso direttamente scrivendo a andrea.poli-provincia.fe.it oppure telefonando al numero 0532 299 131 oppure trasmettendo un fax al numero 0532 299 795. Grazie a tutti.